Per motivi di salute l'arcivescovo dell'arcidiocesi Salerno Campagna a Cerno ha annunciato le sue dimissioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente durante il ritiro del clero in corso al seminario metropolitano San Giovanni Paolo II di Ponte Cagnano Faiano. Lo stesso Papa Francesco ha accolto le dimissioni di Moretti, che ad inizio novembre aveva inviato una lettera direttamente al pontefice. Moretti resterà in carica fino alla nomina del suo successore. Grazie a tutti.